Si è concluso con un compromesso il braccio di ferro tra la coordinatrice regionale di Forza Italia, Iole Santelli, e alcuni consiglieri regionali del partito, tra cui Ennio Morrone, Giuseppe Graziano e Nazareno Salerno. Un muro contro muro che stava diventando pericoloso per la Santelli, viste le dimissioni chieste da Salerno. A fare nascere lo scontro, il coordinamento di Cosenza, per la città Abruzzi e Lazzurra aveva immaginato una guida a tre, privilegiando le figure giovanili del partito, scelta non condivisa da Graziano e Morrone, che chiedendo che venisse dato spazio a figure con più esperienza, avevano lasciato chiaramente intendere di aspirare alla poltrona. Ora la Santelli ha depositato in parte le armi, decidendo di mantenere il coordinamento a tre, anziché univoco, e di dare due delle cariche a Giuseppe Graziano e Luca Morrone, figlio di Ennio. La terza andrà invece al coordinatore regionale dei giovani Luigi De Rose. La Santelli, che ha riferito di aver agito dopo aver sentito Silvio Berlusconi, ha spiegato Sono certa che queste siano le figure più adatte ad assumere la guida del partito a Cosenza e saranno capaci di trasmettere il loro entusiasmo e la loro passione politica in una provincia che vedrà al voto fondamentali centri, tra cui proprio la città capoluogo e l'importante centro di Rossano, e di dedicarsi assiduamente al rafforzamento di Forza Italia in questa nuova fase di strutturazione.